ritrova subito i punti in classifica la labor vetro cln gusmolise che va ad impattare con la lazio 4 a 4 tra le mura amiche del pala unimol in un match molto intenso ospiti subito in vantaggio con questa bordata di lupi il rosso blu non si disuniscono e sugli sviluppi di un corner impattano i conti con natan simao imbeccato da tubau la lazio non ci sta e lei premanda sulla traversa una sforbiciata e dal lago poi sul calcio di rigore il quintetto di sanginario mette la freccia con denisco il finale di prima frazione denso di emozioni jetson mette dentro e lupi fa doppietta poi il sesto fallo di rosso blu vale il tiro libero che pazietti trasforma ma quasi sulla sirena il tranciante di di stefano è sinonimo di 3 a 3 nella ripresa gli ospiti volgono il secondo legno di giornata con pazietti poi denisco ben servito a natan simao mette a segno il 4 a 3 facendo doppietta quindi un lob di jetson è un assist per pazietti che anche lui mette a segno la marcatura bis il resto non susseguirsi le emozioni senza altre reti ma con applausi convinti da parte del pubblico la prospettiva per i campobassani di una trasferta sabato a merilli quintetto che ha visto rinviato data da destinarsi ieri il proprio match derby in esterna sul campo del masca lucia